Avvocato Principe, voi si badite che il sindaco Rotice è incompatibile, lui dice il contrario, alla fine chi dovrà decidere questa incompatibilità eventualmente? No, noi non diciamo che è incompatibile, noi diciamo che non ha ancora presentato al Comune, al Segretario Generale e quindi al Consiglio Comunale i documenti dai quali si possa evincere chiaramente che c'è una incompatibilità, ad oggi noi abbiamo sollecitato la presentazione di documenti che lui ha annunciato, ha detto che ha risolto i problemi di incompatibilità, dicendo ciò per certi versi ha anche ammesso che delle situazioni di incompatibilità ci fossero, ora se prima o dopo o durante lo vedremo dei documenti, quindi il nostro è un atteggiamento di garanzia nei confronti del Consiglio Comunale e di rispetto della legge che chiede che vengano fatte queste verifiche, quindi lo vedremo poi all'esito della documentazione che presenterà e della discussione che se ne farà in Consiglio Comunale. Il problema è che si vuole evitare di arrivare in Consiglio Comunale perché noi abbiamo chiesto ufficialmente che venisse portato in Consiglio già in quello di ieri l'argomento e ci venisse data la possibilità di verificare, anziché portarlo in Consiglio Comunale, si fa una conferenza stampa e peraltro non si dimostra nulla perché non si è dimostrato nulla in questa occasione, oggi chiediamo solamente di essere messi in condizioni di poter archiviare questo aspetto perché non abbiamo nessun interesse né di fare polemica su queste questioni e di fare rissa su questo, vogliamo sicuramente archiviare questa fase, rassicurare i cittadini che i propri consiglieri comunali e il proprio sindaco è nelle condizioni di poter esercitare legittimamente questa attività perché non ha motivi di incompatibilità e poi passare subito, magari già da ieri, ad altri argomenti che ci stanno a cuore e ieri si poteva anche fare questo ma si è voluto chiudere un Consiglio Comunale in tutta fretta parlando poi fuori della questione degli LSU o di altre questioni che stanno a cuore a tutti invece.